Ed eccoci qui su Lilia! Sì, ha la doppia L, questa roba mi fa impazzire. Com'è nel meta attuale? È forte, è ancora water, è stata nerfata, continuate a giocarla, è ancora veramente fortissima. Io non sono per niente un fenomeno su di lei, non è un campione che ho spammato, non è un campione che è sempre stato appunto nelle mie corde e nonostante questo, vedrete anche appunto nella partita, è un campione che è fortissimo, è fortissima, anzi è ancora uno dei miei ban più fatti in generale. Cioè se vedo che qualcuno banna Yumi, io banno Lilia. Quando non bannano Yumi, cioè devo bannare Yumi, devo lasciarla open, ma odio sempre avercela contro e l'ho giocata un po' di volte di recente, specialmente perché stanno cambiando leggermente i ban e non volevo averla contro e continuo a consigliarvi di utilizzarla. Come build su di lei vado a fare scarpe della penetrazione, primo item, secondo item vado a fare l'araldo del vuoto e terzo item vado a fare la maschera, questo nel 95% dei casi. Ho provato a fare il cappello secondo item, ma non è stata una scelta che mi ha fatto impazzire, invece avere due oggetti che ci danno anche salute massima è veramente molto comodo. Come potenziamento delle scarpe vado quasi sempre a fare la zonia perché così possiamo fare la combo molto forte, ad esempio di fare flash con la prima abilità, colpire più target possibili, castare la suprema e poi andare in zonia. Finisce la zonia, loro sono tutti addormentati, nel frattempo la squadra ingaggia e meniamo facilmente. Come il resto degli oggetti è molto standard come maga, ecco dopo aver fatto la maschera che magari non ci aspettiamo, non utilizziamo su altri campioni, cioè andare a fare il copricapo di Rabadon, la sfera dell'infinito e poi la corona che ci aiuta tantissimo. Come il rune il face rush è tanta roba perché c'è lo scatto fasico, perché ci permette di continuare a fare quel modo di engage che ci piace, cioè entriamo, tiriamo un po' di pizze e scappiamo, oppure li superiamo, continuiamo a correre in giro, a provare a farci prendere, in realtà sfruttiamo molto bene la nostra passiva, la nostra prima abilità e chiaramente continuiamo a macinare del danno un po' alla volta che poi va in combo molto bene con la maschera. Per le rune appunto, le altre rune, mi piace avere qualcosa di più difensivo specialmente per l'early game, ma poi avere una tempesta incombente qui che ci aiuta a scalare molto bene nel late game. Come incantesi mi vado a utilizzare la punizione e il flash, ma detto questo vi lascio al gameplay. Caffè amaro lo prendo solo se il caffè è buono, sennò fa... Ah, ok, ho capito, dici, se non è fatto bene, oddio, quello non saprei distinguerlo così tanto io. Poro game, no, dai, stavo scherzando, non penso che veramente il tizio russo... Mo vediamo com'è, a parte che, raga, no, no, poi mi confondete pure. Mi confondete pure. Mi parti proprio dal blu. Ci parto, ci parto. Che sono arrivato un po' più in ritardo. Sì, puoi pure fare la pro H che quando sta per finire lo porti indietro. Cioè, per fare... Dicevo, che dicevo... Ah, se sniperano, raga, non ci posso fare niente con il poro se sono io in jungle. Poi io li salto i parrots. Vado direttamente al rosso passando da dietro. Allora, in teoria quella guarda lì, mi vede se... Eh, mi ha voluto che startavano dal blu. E a causa del suo male pianga se stesso. Ho mangiato una pizzetta appena uscito dal lavoro oggi. Brava. Non la posso cancare soltanto per spaventarla. Ti prego di migrare un rival d'altro jungler perché non ho lo smite. Ok. Oh, ma c'è vision questa? Dov'è fare i golemi. Se ne risale. E non sono al 5. Tu neanche, no, tu sì. Ah, mica te. L'hai tolto dalla esa, appilo. Eh, a breve devo beccare. Allora. Tu ce la fai a beccare e basta. O meglio, cioè considera che io sto facendo... Sto andando a prendere le scarpette. C'è anche Aurelion bot. Posso lanciare l'E-Force della base? Eh, niente. Io ho paura che mi mena se questo ci vado. Dai, ma questo vede tutto, regà. Ma com'è possibile? No, lo so, intendo che me l'ha tolto nel senso che gli è andato vicino e quindi Seth si è ingaggiato e tutto. Invece se la mia E arrivava prima dell'ingage lo potevo colpire io per primo, capito? Il problema è che ho perso un sacco di tempo per provare a gankare lì e ora sono indietro di farm. Lì, sì, mi sa che ha preso pure la kill. Oddio, non so che ha preso la kill. Però, se no, sì, ha preso l'assist. Oddio, ma che stanno fightando veramente questi? Ok. È stato un parecchio, eh. Il problema è che l'isina mi sa che mi mena malissimo in early game. Capisco se possiamo permetterci di fare sto... Ah, sì, con te, sì. E, Andri, fai considera che è arrivato anche lui. Non c'è l'assist. Se prendi la vision, sperando che non lo stiano mi sta facendo. Che lo stanno facendo? Devo riuscire a colpire... Perfetto. Arrivo su di lui? Che sto facendo via. Perfetto. Ma vai che c'è? Buonissimo. Eh, ma lui doveva smaitare per curarsi, capito? Andri, lo raccorda, no? Ari non lo fa? Non lo fa. Oh, sono ragazzoso dal silence. C'è nessuno che viene su sto trick. Lo fa tornare l'isina? Cazzo, guarda, mi arriva questo. Ce la faccio, ce la faccio. Perfetto. Trick fatto. Torre mid fatta. Benissimo. È troppo forte, per cui lo intendo. Cioè, tu giochi benissimo a dick carry. Ma se mi vieni con Alistar all'herald, cioè, 300 danni. Cioè, infinito. È troppo, no, too much. È troppo utile. Cioè, tipo adesso, Andri non stava vincendo la lane per il gank. Cioè, ero messo ok, però non era tipo turbo fiddato che dici, mi basta lui. Oh no. Oh no. Oh sì. Mortacci, lo sapevo. Lo sapevo che quando... La cura di Soraka, inutile, che ha dovuto fa... Ma li voglio dei vare, sti maledetti. Sto puntando in giro. Ne vado? Sì. Che goduria, così si impara Soraka. Cura, cura, cura anche la mid. Brava Soraka, brava. C'è il rosso che ha responato. Ah, ma tu sei basso. È l'essere fa. Sì. Dio. Roski ha tirato la kuma, non ha guardato la minimappa. Quindi, quindi praticamente... Cioè, era ovvio che stavo nel cespuglio, no? Dio, ti vuole rubare... È pazzo? Perfetto. Lillia main. Questo che ci sono, detto... Quelli troppi io li lascio fare, perché onestamente da solo non ce la faccio su di loro. E adesso iniziate a vedere la Lillia. Maledetta. Maledetta. Io sto facendo full clear, becco, compro, meno. Quanto facciamo la mascherina secondo l'item. Tu tieni lo duro lì. Oh mio Dio. C'è della patatrack? Allora. Sì, sì, mena ye, mena ye. Vabbè, lo prendo. Lo prendo, lo prendo. Thanks. Vado a comprarmi la maschera, comprata in un unico back. Meno. Io... Ho tirato la palletta da qui. Guarda, 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 guarda. Ho tirato la palletta dalla base. Venagli, venagli. Lo l'ho bloccato. Lo l'ho bloccato! Maledetto Silence di Soraka. Però, la palletta è stata MVP. Lisina ha venduto il game. No, è che semplicemente... Gli ho rubato il rosso, ha provato ad andare a prendere il rosso nostro, è stato trovato e ha rosicato. Ai ai ai. Qua c'è... Oia. Pro player. Eh, questo... Questo è un po' c'è. Amico disposto. Io... Mi perdono. Sono solo gli estetti che vengono. Ah, infatti. Ha ulti solo tra dieci secondi. Quello che tocca... Cioè, dovrei prenderli veramente tutti. Cioè, drick tra trenta secondi, forse possiamo... Attendere, nonostante la situazione sia su cosa. Aspetta. Un tre le pallet fa. Sì, questo va bene. Andiamo, 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 andiamo. Oddio, Soraka di merda! No, no, non ci credo, regà, Soraka, col suo cap... Ha flashilato. Dovevo ultare subito, deve essere la prima cosa che facevo. Solo che non ho ultato, perché ho detto, vabbè, tanto lo crepiamo. Mi sono dimenticato di quello schifo di Soraka, che anche se è behind, cura 8 milioni. E quelli stanno a falldrake, no? Perfetto. Lo stun! Eh, niente, con l'amore dallo schifo di Aurelio. Stai con lì di qua, Andre. Quello sta a falldrake, secondo voi? Vabbè, andiamo al drago, andiamo al drago. Sì, se ci arriviamo in tempo, sì. Se non avevo sta a falldrake. Però forse sta a falldrake. Eh, infatti. Porca amigna. Falletta invi... Eh, abbiamo... Il fan delle merc... Con le frasi. Eh, ci sono frasi anche più vecchie e non utilizzate in questo momento, credo. Purtroppo il merch non lo posso fare, perché il merch io lo stavo facendo. Eh, ovviamente mini, cioè niente di esagerato. Non posso ultare ancora. Ma, eh... Sì? Ma il problema è che il commercialista mi ha detto che se faccio il merch, devo aprire la camera di... Cioè, devo entrare in camera di commercio e mi costa 3600 euro l'anno. e capisci che... È un po' complicato. Fa cagare sta roba. Ovviamente Italia è sempre un bel paese. Ciao, insomma. Ciao, gatto. Uh, uh, ma che cazzo sta succedendo qua? Ah, ma sei tu. Sei grosso. Che Kenny dai? Ah, grazie. Ho Baron? Uh-huh. Io che mi sto curando su un coso, MF che dice no. Andre devi qua. Siamo bassissimi. Sto curando, eh. Stai tranquillo? Rispetto a cosa? Riley? Ah, per la skin. Eh, lo so, è che mi dispiace. Perché poi, dopo che ti aggiunge, devi comunque aspettare due settimane, no? Per fare il regalo. Faccio la zonia perché sto fight, cioè sto... Sto game mi fa comodo. Sì? Sì? Se viene anche Ari, sì, magari. Uh, perfetto, proprio. Ciao, sono appena arrivato. No, non è partita l'R, non ci credo mai. Ho fatto la mossa giusta, ma non... Ciao, sono appena arrivato. Intanto, grazie mille, Cami, per la sub regalata a Bea, che credo volesse fare il Prime ASAP. Mi sa che c'era un po' un attimo scammata. Grazie mille per la sub regalata a Bea. E per la cinque... Sì, vabbè, ce la posso fare. Perché sto toccando? Porca minata sta devando. Eh, per la passiva. Vabbè, hai capito. Poi ti devo... Ti devo mandare un messaggio poi, Cami, dopo la live. Dei ricordare. Sì. Sì, è arrivato. Però questo è un po' bene. Mi sa che forse era meglio de' no. Oh, cazzo. Mi sa che avevano... C'è la... la vision. Meno male. D'altro Lee Sin mi ha calciato in mezzo a loro. E non avevo ancora la zonia. Leandry l'ho già comprato come secondo item. Il give dopo sto game. Oddio. Sì. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Sì, 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 sì. Yes. Oddio. Considerando che però ho iniziato un po' più tardi potrei fare anche un ultimo game. Non ce l'ho pensato. Vediamo quanto dura ancora questo. Se finisce presto ne sta dato uno al volo e lo faccio proprio alla fine, fine, fine. Sennò lo faccio dopo questo. Faccio il blu prima io. Anche devo aspettare di avere vision su Lee Sin prima di fare cose. Portatelo un po' più in qua. Portatelo un po' più in qua. Portatelo un po' più in qua. Niente, raga. Porca mignotta quanto mi viene il dolore. Cioè, vi giuro, voglio quittà il gioco. A Grandmaster non si tira fuori il cazzo di obiettivo. secondo me questi hanno qualche da prendere lo scatol che spona. Non so che ho preso. Lo scatol! Mi ho crepato su Raka prima del fight. Andiamo a vincere mid? Già BN tutti i giorni live dalle 16 alle 20 tranne il venerdì. Tranne il venerdì. Incredibile. Facciamo un po' di soldi prima che finisce il game così alzo la probabilità di prendere l'MVP. Ah! Sa fine di mine! GG. Intendevo per la torretta. Aspetta. Ah, sì, sì. Prima, bene. Anche la passiva. Oddio, pure la passiva. Fa danno magico. Insomma, allievo. Liandri, passivo, tutto quanto. Troppi damaggi. Troppi damaggi. Vediamo se la rito non penso di aver fatto MVP perché sto a 78%. E lei invece è l'NVP. Già BN tutti i giorni. Senti! È venerdì! Ah! Ah!